Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amén. O Gesù, al sorgere di questo nuovo giorno, rivolgo a Te il mio cuore in preghiera. Tu mi chiedi di amare i miei nemici e di pregare per coloro che mi perseguitano. È difficile, Signore, ma con la Tua grazia e il Tuo Spirito Divino posso trovare la forza per vivere il Tuo insegnamento. Aiutami a soperare l'odio e la rabbia, a vedere oltre le differenze e le offese e ad abbracciare l'amore che Tu ci hai insegnato. Ricordami che anche i miei nemici sono Tuoi figli, che forse sono feriti, confusi o smariti. Sì Tu a trasformare il loro cuore e a portare la pace. Così come il sole sorge ogni mattina, fa risplendere la mia vita con la Tua luce e permetti che il mio amore e la mia gentilezza siano testimoni del Tuo amore. Gesù, confido in Te, mentre mi avventuro in questo nuovo giorno, consapevole che la Tua presenza e il Tuo amore mi sostengono in ogni momento. Amén. Amén. Amén.